Alcoa, ieri l'incontro al Mise, arriva la Saidera Lois, lo ha annunciato il ministro Guidi e i sindacati, un nuovo gruppo svizzero sarebbe intenzionato all'acquisizione dello stabilimento. Cauto ottimismo delle sigle sindacali, intanto un altro Natale con la fabbrica chiusa. Carboni a minorenne, Rom denunciato per furto, rubati i PC portati di giocattoli e una bicicletta dal negozio, seconda mania del fatto risponderà il padre del ragazzo accusato di ricettazione. Sanità nel 2016 aumentano, IRPEF e IRAP, il ritocco servirà a colmare il disavanzo della sanità pubblica di circa 400 milioni, l'assessore Paci non avevamo altra scelta. Rubio UDC, il taglio ai patronati è pericoloso, nel sulci siglesiente i patronati sono un punto di riferimento anche per i disoccupati, addetto a rischio licenziamento migliaia di operatori. Ben ritrovati su Canale 40, incontro al Mise, ieri per Alcoa è arrivata la conferma ufficiale, qualcun altro oltre Glencore è interessato allo stabilimento di Portovesme. Si tratta del gruppo svizzero Cider Alois che si è impegnato a inviare un'eventuale, formale manifestazione di interesse entro venerdì. Cauto ottimismo da parte dei sindacati che comunque avvertono, verificheremo le reali intenzioni e disponibilità degli imprenditori svizzeri. Rino Barca della CISL questa mattina al rientro dalla trasferta romana ha detto dobbiamo avere fiducia al servizio. Incontro ieri al Mise per Alcoa è arrivata la conferma ufficiale, qualcun altro oltre Glencore è interessato allo stabilimento di Portovesme. Si tratta del gruppo svizzero Cider Alois e che si è impegnato ad inviare un'eventuale, formale manifestazione di interesse entro venerdì. A informare i sindacati sono stati il ministro Federica Guidi e il sottosegretario Claudio De Vincenti in occasione proprio del tavolo al Mise sul regime della superinterrompibilità al quale ha preso parte anche il presidente Pigliaru. Cider Alois, società nota per lavorare l'alluminio, avrebbe mostrato particolare interesse per le tariffe agevolate che le consentirebbero di produrre il materiale. Ora, in calza il segretario generale della Fimcisle, Marco Bentivogli, si devono verificare le reali volontà di acquisizione. I lavoratori comunque passeranno l'ennesimo Natale con la fabbrica chiusa. Per il segretario confederale dell'UGL, Ermene Gildo Rossi, benvenga qualsiasi intervento utile a sbloccare la situazione, ha detto a Lanza, perché l'interesse per il futuro del sito Alcoa e dei suoi lavoratori sia effettivo. Più cauti invece i sindacalisti sardi. Faremo le nostre valutazioni strada facendo solo quando avremo certezze sulle intenzioni del nuovo soggetto, hanno sottolineato il segretario regionale di FIOMCGL, Roberto Forresu e Bruno Zai della RSU Alcoa. Il ministro Guidi, confermando l'interesse di un nuovo soggetto, ha sottoposto ai sindacati alla Giunta lo stato dei rapporti con Glencore, che ha ancora un mese di tempo dopo il via libera della Commissione europea per accettare le condizioni sul prezzo competitivo dell'energia. Siamo orientati con i lavoratori da Roma, adesso ci aspettiamo che la Glencore prenda una decisione che la Guidi ci ha detto che gli ha proposto, e cioè quella di un prezzo dell'energia molto competitivo. è che comunque rimane il problema degli anni che sono rinnovabili. Quindi ci rivedremo sicuramente verso la fine di gennaio per capire qual è la volontà di Glencore. Sono fiduciosi? Ma sulla questione della fiducia deve rimanere una certa fiducia, noi non possiamo pensare che questo stabilimento, che questo territorio possa non trovare una soluzione. Quindi la fiducia rimane, bisogna continuare a battere perché il governo porti a casa il risultato. E passiamo alla cronaca furto di PC portatili, giocattoli e una bicicletta a carbonia nel negozio di rivendita di articoli usati, seconda mania in via Roma. Il fatto è avvenuto nella notte del 21 dicembre scorso. A denunciare l'accaduto ai carabinieri della stazione locale è stato il titolare del negozio. Ieri mattina, al termine delle indagini, i carabinieri hanno denunciato alla procura del Tribunale dei minori di 13 anni un minorenne residente nel campo nomadi di Sirai. Ma non essendo comunque il reato imputabile al ragazzino, le risponderà il padre di 31 anni, residente anch'esso nel medesimo campo nomadi, coniugato, disoccupato e adesso accusato di ricettazione. Dopo aver perquisito il campo, i carabinieri hanno rinvenuto la bicicletta che nel frattempo era già stata riverniciata di un altro colore proprio per non essere riconosciuta. Il ragazzo avrebbe asportato dal negozio anche una torcia, diverse prese elettriche e pacchi di cacciaviti, mentre la bicicletta è stata restituita al commerciante. E adesso parliamo di tasse via libera al ritocco IRPE-FEIRAP in Sardegna per ripianare il disavanzo del sistema sanitario regionale. Alessia Pinna. Dall'anno prossimo IRPE-FEIRAP saranno più pesanti in Sardegna. L'aumento delle tasse servirà a colmare una parte del disavanzo della sanità pubblica che quest'anno sfiora i 400 milioni. Un ritocco a rialzo si legge sull'Ansa che equipara l'imposta sulle attività produttive al resto d'Italia, dal 2,93% al 3,9% e che determina per i redditi oltre i 28 mila euro un prelievo più alto in busta paga. L'IRPEF cala invece per chi dichiara redditi sotto i 28 mila euro. Il centro-sinistra con l'approvazione di un disegno di legge passato in Consiglio regionale con 32 voti a favore e 19 contrari ha previsto infatti un taglio dell'aliquota sino allo 0,95% per i redditi fino a 15 mila euro e sino all'1,20% per quelli oltre i 15 mila e fino a 28 mila. L'imposta sale invece al 2,70% per i redditi che superano i 28 mila e fino a 55 mila euro, al 3,20% oltre i 55 mila e fino ai 75 mila euro, per arrivare fino al 3,33% per i redditi oltre i 75 mila euro. A fermare gli incrementi non sono bastate le proteste del centro-destra che parlando di panettone avvelenato per i sardi ha tentato di bloccare il provvedimento con un pesante ostruzionismo in aula. Neppure i malumori in maggioranza hanno tenuto l'effetto di frenare tale ritocco. Abbiamo la coscienza a posto, non ci sono altre possibilità, ha spiegato l'assessore del bilancio Raffaele Paci. Sul provvedimento è intervenuto a sfavore anche il consigliere regionale di Forza Italia Ignazio Loci, secondo il quale l'unico obiettivo della giunta sarebbe quello di salvare la baracca, obbligando i sardi a uno sforzo ingiusto e immotivato. Il consiglio comunale di Carboni ha riunitosi questa mattina nella sala consigliare di Piazza Roma, ha approvato il bilancio di previsione per il 2016 con 23 sì, 9 no e i consiglieri del gruppo Carboni a Rinasce che non hanno partecipato al voto. Il documento è stato dunque approvato. Non sono mancate al termine della seduta discussioni anche piuttosto accese tra il sindaco Casti e il presidente del consiglio comunale Ignazio Cucco, in quanto quest'ultimo, nel rispetto del regolamento, non ha permesso l'intervento del primo cittadino sulla discussione del bilancio. Sono migliaia gli operatori a rischio e ridimensionamento dei servizi dei centri di assistenza fiscale. Sono queste le conseguenze almeno che potrebbero scaturire dai tagli dei contributi, secondo il capogruppo DC in consiglio regionale Gianluigi Rubio. Con la legge di stabilità si applica una sforbiciata incomprensibile addetto ai patronati tenuti da sindacati e organizzazioni di categoria che anche in Sardegna svolgono un servizio indispensabile per le tutele previdenziali e socioassistenziali verso l'universo dei lavoratori. Ecco perché, a concluso Rubio, la regione dovrebbe sollecitare il governo per incrementare le risorse a favore dei patronati isolani vista l'attività di supporto indispensabile a favore soprattutto di precari e soggetti deboli. Alitalia annuncia più voli e aerei più capienti sulle rotte della continuità territoriale Sardegna-Penisola. L'ulteriore incremento di offerte è stato deciso dal comitato di monitoraggio composto da regione Vettori riunitosi in seduta permanente all'assessorato dei trasporti. In particolare verranno aggiunti otto voli sulla rotta Cagliari-Linatte-Cagliari e di due voli sull'Alghero-Linatte-Alghero dal 30 dicembre al 4 gennaio. In totale la compagna di bandiera mette in campo quindi 12 cambi di aeromobili dei quali 8 su Linatte, 4 su Fiumicino dal 23 al 29 dicembre. Tariffe a 14 euro per i sardi tutto l'anno ma anche drastiche riduzioni sui biglietti per i non residenti grazie al calo del prezzo del carburante, catering con prodotti made in Sardegna e garanzia di personale tutto italiano. Vincenzo Onorato, il timone di Tirrenia e Mobi, è pronto a lanciare una nuova sfida nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e la penisola. Il calo, ha precisato Onorato, sarà operato in via prioritaria per gli operatori turistici sardi. E veniamo agli appuntamenti natalizi a Narcao. Continuano gli eventi in vista del Santo Natale. Ieri pomeriggio Piazza Marconi ha ospitato Natale 2015 a Narcao, un pomeriggio di festa per i bambini organizzato dall'assessorato alla cultura del comune e dall'associazione La Casa del Sorriso di Perdagius. Abbiamo intervistato Maurizio Saba, assessore comunale ai servizi culturali. L'amministrazione comunale di Narcao, anche quest'anno, nonostante il momento storico di crisi, il momento che sta investendo tutto il territorio e pertanto anche gli enti locali, con un grande sforzo anche quest'anno l'amministrazione, ripeto, ha cercato di organizzare un paio di eventi che si terranno appunto quello che si sta appena svolgendo con La Casa del Sorriso di Perdagius. Poi domani seguirà un altro evento presso l'oratorio, sempre della parrucchia di San Nicolò di Bari di Narcao, un altro evento con l'associazione Capricon di Iglesias. Il giorno 26, il giorno di Santo Stefano, seguirà un altro concerto polifonico con il collo di Sant'Adi, sempre presso l'oratorio della parrucchia di Narcao, alle ore 18. Quindi questo, diciamo, è il programma che l'amministrazione comunale di Narcao ha organizzato. L'occasione per fare i migliori e i più sinceri auguri a tutti i cittadini di Narcao, in particolar modo a tutto il Sulcis. Il 25 dicembre alle 19, al Teatro Centrale di Piazza Roma a Carbonia, salirà sul palco il gruppo gospel Tony Washington Gospel Singers. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale Progetto Evoluzione con il patrocinio del Comune. Il concerto rientra nelle iniziative organizzate nel mese di dicembre per ricordare i 77 anni della città di Carbonia. E sempre il Teatro Centrale di Carbonia sarà la sede ospitante anche dello spettacolo di danza Cenerentola, proposto dal CEDAC, circuito multidisciplinare della Sardegna. L'appuntamento è per domenica 27 dicembre alle 20.45. Lo spettacolo sarà portato in scena dal corpo di ballo e solisti del Royal Ballet of Moscow, The Crown of Russia. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio come di consueto alle previsioni meteo, poi Noast in Curso, il nostro telegiornale Lingua Sarda, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Previsioni per domani giovedì 24 dicembre. Poche nubi. I venti saranno prevalentemente moderati e soffriranno da sud-est con intensità di 11 km orari. Possibili raffiche fino a 19 km orari. Temperature minime comprese tra 5 e 13 gradi e massime comprese tra 15 e 19 gradi.